Nasce la collaborazione tra la prefettura e i carabinieri in congedo, la sezione di Santa Giustina ha firmato un'intesa con il prefetto Savastano che prevede l'aiuto di dieci volontari che si occuperanno delle materie burocratiche di Palazzo dei Rettori. Il settore denuncia carenze di organico, per questo motivo l'appoggio dei carabinieri assume un'importanza del tutto particolare. I carabinieri in congedo, animati da una fortissima volontà di continuare a prezzare le loro energie a favore degli altri, del pubblico, a giorni alterni saranno presenti nei nostri uffici e collaboreranno con il nostro personale. Si partirà dagli atti di ricevimento della posta, di protocollazione, di fascicolazione, di predisposizione di fascicolo elettronico, vedremo, li stiamo conoscendo, le loro singole predisposizioni e capacità, rapporti con gli enti locali, immigrazione, cittadinanza, l'attività contrattuale, le gare, diciamo che ci aiuteranno nei primi adempimenti delle attività istruttorie. Per i volontari un modo per continuare a esercitare quello spirito di aiuto e collaborazione che da sempre l'arma incarna e promuove. Come associazione della calabinieri in provincia siamo circa 700 iscritti. Questa collaborazione nasce su indicazione del comando provinciale del colonnello. 10 volontari che faranno questo servizio divisi per due per ogni settore, proprio, non dico nel nostro DNA, ma nel nostro spirito, supportare e dare una mano alle persone, alla gente comune.